Il 20 febbraio Alvia è il 15esimo corso di assaggiatori di primo livello per quanto riguarda Onav Siracusa. Per quale motivo bisogna diventare assaggiatori di vino? Io intanto vorrei fare una brevissima premessa, intanto spiegare che cos'è Onav. Onav è l'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino che nasce ad Asti nel 51 ed è quindi la prima organizzazione a livello nazionale, la prima associazione che si occupa di cultura del vino. Da qui la formazione dell'assaggiatore di vino. L'assaggiatore di vino è una figura che si occupa tecnicamente dell'analisi sensoriale del vino e quindi conosce pregi e difetti del vino. Credo che oggi, soprattutto in Sicilia, che è una delle prime regioni per produzione vinicola in Italia, sia importante essere dei consumatori prima ancora che assaggiatori informati. Si dice che non si bada a spese per una buona bottiglia, ma siamo sicuri poi alla fine che a un prezzo alto corrisponda a qualità? Non sempre. In effetti non è un'equazione che è sempre valida, però fare un corso e diventare un assaggiatore di vino e quindi, proprio come dicevo prima, capire i pregi di un buon vino fa anche riconoscere un vino che abbia una qualità prezzo molto buona. Ci sono delle ottime bottiglie che anche a meno di 10 euro. È chiaro che però più andiamo su con il livello di prezzo è anche, diciamo, testimonianza di un vino fatto bene, dove c'è magari una raccolta manuale, ci sono delle tecniche di vinificazione molto particolari e quindi l'assaggiatore di vino riesce anche a capire questo. Di recente è partito un Giro d'Italia, una serie di serate tematiche dedicate ai vini che sono prodotti in tutte le regioni italiane. Qual è il motivo di questa scelta? Ma diciamo che abbiamo voluto, noi come delegazione di Siracusa, siamo già presenti dal 2011, facciamo mensilmente delle attività, delle serate di approfondimento, oltre a fare i corsi di degustazione, facciamo delle visite in cantina. Sempre più spesso i nostri soci ci chiedevano di fare degli approfondimenti proprio sulle varie regioni d'Italia e quindi conoscere un po' più da vicino quelli che sono i vini delle altre regioni. Abbiamo iniziato qualche settimana fa con i vini campani. Le prossime tappe saranno sui vini friulani, sui vini piemontesi. Ovviamente saranno alternate anche a delle serate diciamo un po' più conviviali dove oltre al vino ci mettiamo anche il cibo. La sezione Onav di Siracusa è una di quelle siciliane più attive perché oltre a corsi organizza una serie di eventi collaterali. Infatti come dicevo noi siamo presenti dal 2011, abbiamo all'attivo tante iniziative che facciamo tutti i mesi, facciamo visite in cantina, delle serate di approfondimento. Il mese prossimo, il 17 marzo, faremo anche una masterclass dedicata ai difetti del vino. Qualcuno un po' storce il naso, dice ma come una giornata intera dedicata all'analisi dei difetti. In realtà è uno degli aspetti fondamentali che permette di riconoscere un buon vino da un vino che ha dei problemi. e quindi la formazione è proprio a 360 gradi.